La possibilità di creare messaggi di testo può essere un grosso vantaggio per qualsiasi sistema di automazione. Ecco com'è semplice. Prima di tutto, creeremo un nuovo progetto. Accetteremo il nome predefinito e creeremo un contenitore di progetto per il sistema da importare in questo progetto. Il passaggio successivo è la configurazione del dispositivo Aggiungi nuovo dispositivo. Selezionate l'oggetto S7-1200 CPU non specificato. A te clic su Aggiungi. Ora prendiamo il contenitore del progetto e un contenitore hardware al quale non siano associati a altri codici. Li abbiniamo e attiviamo alla vista del progetto. A questo punto compare una piccola casella pop-up. Facendo clic sul pulsante Rileva, esco ed eseguo la scansione della rete Profinet molto rapidamente. Cerco quell'indirizzo IP da inserire nella casella pop-up. Ora che vedo l'indirizzo IP corretto per questa CPU, faccio clic di nuovo su Rileva. Questa volta faremo la scansione della rete e troveremo i codici corretti per la CPU, i moduli di segnalazione, compresi i moduli di comunicazione dei quali abbiamo un modulo GPRS per questo progetto. Ora abbiamo l'hardware corretto attuale. Non abbiamo dovuto utilizzare il catalogo per scegliere i componenti. Siamo pronti a modificare un attributo e procedere. Passaggio successivo. Evidenziamo il modulo GPRS e facciamo clic su Proprietà. Qui ci sono diverse cose tra cui scegliere. Per questo modulo GPRS ho già aggiunto la scheda SIM. Ora dobbiamo inserire fisicamente il PIN che è 820601. Dobbiamo farlo due volte. Quindi aggiungiamo il numero di telefono corretto per questo gestore del servizio per creare i messaggi SMS che andranno avanti e indietro. In questo caso devo digitare più 4972 Il primo passaggio è completato. Passiamo all'accesso GPRS. Ora dobbiamo aggiungere l'indirizzo del gestore web attuale per poterci connettere al server SMS. In questo caso il provider è web.vodafone.de Infine andate a vedere l'identificativo hardware che ci è stato assegnato dalla configurazione attuale. È il 277. Servirà più tardi. In questo passaggio selezioniamo la CPU. Fate clic sul pulsante Download e se ci pensate siamo riusciti a scansionare la rete Profinet trovare questo hardware fisico compreso il nuovo modulo GPRS con tutti gli altri moduli di segnalazione semplicemente modificando gli attributi e cliccando sul Download per ottenere un sistema perfettamente funzionante anche sulla rete cellulare. Come vedete abbiamo un'antenna e il sistema sta effettuando il caricamento. Tra pochi attimi quando farò clic su Avvia tutto e Fine appariranno delle spie verdi sul pannello. Come vedete ha trovato il server web dal gestore del servizio e appena finito cercherà attraverso questa antenna anche la rete cellulare. Ora l'ha trovata. Infine riuscirà a trovare di nuovo il server web e avremo un sistema completamente funzionante nell'attuale infrastruttura dell'area locale. Il prossimo passaggio riguarda i blocchi di programma. Selezioniamo l'opzione Librerie. Possiamo prendere i tag, i blocchi dati, i blocchi di funzioni, di fatto le configurazioni hardware e testarli verificando che tutto funzioni per la vostra applicazione. A quel punto potete salvarli nella libreria globale per riutilizzarli quando vorrete. Così create efficienza di progettazione per il vostro lavoro quotidiano. Facciamo proprio questo. Ora apriamo la Libreria Globale. Questo è il blocco dati GPRS. Lo trascino nei blocchi di programmi. In questa posizione, per usarlo, devo compilare il blocco in questione. Questo varrà per il numero telefonico fisico al quale stiamo inviando l'SMS e il messaggio di testo stesso. La compilazione è terminata. Faccio doppio clic sul blocco dati GPRS. Lo espandiamo. Come ricorderete, nella configurazione hardware del modulo GPRS avevamo l'identificativo hardware 277. Ora il blocco dati è completo. Dobbiamo solo premere il pulsante Compila. In questo campo a fondo schermo vedete il blocco compilato. Siamo pronti a procedere. Il passaggio successivo consiste nel creare la chiamata ciclica effettiva o la chiamata per questo SMS specifico e lo possiamo fare nell'OB1 principale. Fate doppio clic sull'OB1 principale. Ora ce l'ho fisicamente. Andate in Comunicazioni, GPRS, T, CON. Prendete il blocco e trascinatelo. Accettate il blocco dati predefinito. Ora eseguiamo un comando T, SEND. Uno è il comando T, CONNECTION e l'altro è un comando T, SEND. Accettate l'indicazione predefinita anche in questo caso. Ora ci servono due variabili per i due ingressi per il sistema che stiamo creando. Nella libreria globale afferro le nostre variabili da qui chiamate GPRS e SMS. Trascinatele nel progetto. Abbiamo una variabile per INVIA e un'altra per CONNESSIONE. Poi aggiungiamo l'ID per il blocco di connessione e l'identificativo, 277, per il modulo GPRS. Da qui possiamo anche dividere lo schermo con il blocco dati che abbiamo appena creato perché lo utilizzeremo con queste chiamate. Afferrate il comando CONFIG, trascinatelo nel blocco di connessione. Il blocco di connessione è completo e possiamo passare al blocco di trasmissione. Andate su ID, fate clic su 1, l'identificativo hardware è 277, la lunghezza è 160, quindi farò una cosa un po' diversa, creerò un puntatore. In questo modo avremo soltanto il messaggio di testo e nessuna intestazione. per farlo basta digitare questo p-dv1.dvx34.0byte 160. Ora il blocco di trasmissione è completo. Non ci resta che selezionare la CPU, effettuare il download nell'intero sistema che faremo subito con il comando SCARICA. A questo punto avverrà la compilazione dell'intero progetto. Al termine della compilazione fate clic su CARICA. Ora abbiamo un sistema perfettamente funzionante. A questo punto agisco sul bit del blocco di connessione e sul bit di trasmissione, generando potenzialmente un guasto di qualche tipo nella stazione locale o remota. Ora, se guardo il mio cellulare, vedo un messaggio di testo. Questa si chiama efficienza di progettazione.